nel 1976 uscì un film che consiglio vivamente di cercare in streaming in internet dove sia che si intitolava il quinto potere non il quarto il quarto era un altro film del 41 il quinto potere un film del regista sydney lumet e l'attore principale era peter finch questo attore faceva la parte di un commentatore televisivo a rischio licenziamento per calo proprio degli ascolti che annuncia il proprio suicidio in diretta strumentalizzato ovviamente dai dirigenti del network diventerà poi un idolo mediatico una sorta di profeta messia della tele e questo film per arrivare al perché io vi sto parlando di questo è stato è uno tra i titoli imprescindibili della carriera di questo regista appunto sydney lumet perché perché quinto potere è proprio un violento e ficcante atto di accusa ai mass media quelli che io chiamo i mezzi di distrazione di massa ossia quelli che si autoreputano giornalisti giornalai giornali televisioni telegiornali la grossa matrix e in particolare alla loro proprio capacità di deformare la realtà a loro piacimento ne abbiamo visto qualcosa negli ultimi anni possono creare allarmismi e la gente ci casca sempre creandosi una realtà virtuale una sorta proprio di matrix e il protagonista ovviamente è l'incarnazione di questa satira che portata avanti poi con dei toni molto accesi un burattino del sistema come tutti i giornalisti sono dei burattini del sistema messi lì per dire ciò che vogliono quelli che sono dietro di loro a differenza di chi come me persona libera dice sempre quello che pensa quello su cui ragiono quello su cui medito poi possa piacere non possa piacere però a chi piace è perché su questa lunghezza d'onda c'è arrivato al ragionamento che io faccio e chi invece non piaccio è perché ancora dorme e ancora nell'imbuto e in più si incazza pure perché normalmente quando una persona sta dormendo il 90 per cento dell'umanità è ancora addormentata se tu vai lì o sveglia sveglia si si alza incazzato ma che cazzo vuoi e così è quello che sta succedendo nella società ormai da anni in mass media raccontano stronzate con questo prologo iniziamo tribù rossoniera tribù di gente vera buongiorno e buon 31 gennaio e a a tutti a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale di un vero milanista il tuo marietto dunque visto che tv e giornali sono l'emanazione del volere dei loro magnati e dei loro capi quando io inizio sempre con parlare dei giornalacci più venduti ogni mattina ovviamente sapete che la gazzetta interista dello sport da un taglio molto più verso quella squadra il tutto juve sport chi sono i suoi capi sono i capi della juventus il corriere dello sport naviga un po tra più acque del centro sud ancora diciamo è un po è come dire se la gazzetta è carne e tutto juve sport e pesce questo è come non è carne né pesce merry merry per sempre vi ricordate il film di michele placido ecco una via di mezzo che non ancora non riesco a a decifrarla molto il corriere dello sport da tanto tempo che lo seguo mentre gli altri due sono chiaramente schierati la gazzetta inter tutto juve sport tutto juve sport tutto sport ovviamente e quindi stamattina è inutile che gli vado dando piede a questi qua perché tanto attenti a quei turchi la gazzetta con cialanoglu da una parte e il nuovo giovane della juventù scusate la juventù il dice la juventus il dice anche terim che era un ex allenatore del milan dice duello tra i top poi le ultime trattative in estremis di mercato parlano la viola su reina e belotti la lazio rilancia per clercot guard verso il bologna arabia raggiunta 91 esimo capa origori ora il cittirischia mancini già a rischio con la rabbia ma intanto i suoi i suoi soldi se li è presi alla grande in prima pagina il qs fa vedere un selfie che va che fa la presidentessa del consiglio giorgia meloni con sinner kin che salta il suo trasferimento a madrid all'atletico perché non lo ritengono idoneo per via dei suoi problemi fisici è tornato quindi a casa madre cioè a casa juventus alla continassa e il tutto juve sport lautaro e careca vlaovic pablito che è stato intervistato stefano tacconi ex portiere della juventus giustamente quindi come vedete gli schieramenti ci sono sempre interna una parte e dall'altra il milan non c'è perché ovviamente è meglio comunque ragazzi è meglio perché sennò poi dicono è la stampa in media invece no in media a noi ci massacrano ed è qui che volevo arrivare perché perché dopo la notizia bomba lanciata l'altra sera dal giornalista momblano in una trasmissione del canale regionale del lombardo tele lombardia che appunto aveva già aveva raggiunto un accordo con zlatan ibraimovic e quindi per i prossimi tre anni dove dovrebbe diventare secondo questo giornalista che poi ripeto la stessa emittente quattro anni fa diceva che arnaud aveva già comprato il milan aveva detto è tutto fatto per ragnica al posto di pioli e pioli da quattro anni sulla panchina del milan dunque come diceva il buon vecchio manzoni lascia i posteri l'ardua sentenza e ci sono dei motivi per cui dubitare di quello che è stato detto perché perché anche stamattina come vedete i mezzi distrazione di massa la sera invece di mettersi d'accordo per chi dice la stronzata prima la dico io la dici tu ecco tutto juve sport stamattina apre che dice non è così facile arrivare a stefano è sia stefano più ad antonio conte per vari motivi che adesso entreremo a vedere dall'altro tiago motta invece è per provare a costruire nel tempo e sembra che la società punti più sitiago motta che su conte allora face fate pace col cervello e con la vostra coscienza cari i miei giornalisti cazzisti cazzari del mainstream perché poi questo si riversa anche nei telegiornali tutti gli allarmismi di questi ultimi anni sono delle invenzioni create dal sistema ovviamente per che cosa per i magnati per chi li paga per chi è sopra di loro per tenere sotto controllo le vostre menti per non essere liberi di pensare e dunque lo so che sono concetti difficili per uno che non ha mai non è stato mai abituato manca a leggersi un libro perché io se ti dico hai mai letto l'alchimista di paolo coelio per fare un esempio no giusto uno così o sidarta di hermanes l'hai mai letto piuttosto che on the road l'avete mai letto e voglio sapere anche chi l'ha scritto così come 1984 sai chi l'ha scritto fammi sapere in basso no perché almeno vediamo il livello no perché il livello nel calcio purtroppo è basso perché quello che vogliono è ovviamente creare questo ignoranza nel mondo del calcio e quindi tutti come le pecore seguono quello che dicono questi giornali e giornalisti poi quelli che ovviamente sono controcorrente ovviamente più facile a ditarli perché quando tu sei nel mezzo del gregge quando vedi che se un gregge tutto bianco quando vedi uno che una pecora nera dice tutti quanti la indicano invece la pecora nera è bella proprio perché è diversa dalle pecore bianche e questa è la sua differenza tutti quelli che vanno la direzione perlomeno questa si distingue a qualcosa di diverso è quello che tocca a me in questo canale che ribadisco è l'unico del calcio non monetizzato anzi demonetizzato dal 14 dicembre il giorno che stavamo festeggiando i quattro anni del canale nella community una bellissima serata di colpo vanno sparendo tutti i pallini degli abbonamenti e a un certo punto durante la trasmissione mi arriva al quarto anno questo bel regalino del mainstream che l'hanno tenuto lì apposta secondo me per il giorno proprio del compleanno scrivendomi il suo canale da questo momento non è più monetizzabile allora perché perché ho dei contenuti dannosi per io direi per la mente umana perché ovviamente apro il cervello della gente che dorme e quindi non svegliare il can che dorme quindi perché questo marasma in questo momento come sempre per destabilizzare l'ambiente milan proprio perché prima vi ho fatto vedere i due poli inter juve e il milan è sempre nel mezzo e allora martelliano non è che questi giornali prendono e parlano di dov'è zang ma non me la siete mai fatta sta domanda cari giornalacci perché non ne parlate è bene stare in silenzio no è meglio non affrontare certi discorsi giusto perché andiamo contro i nostri capi contro chi ha il potere tu interista che sei bello felice e baldanzoso come ieri anzi coloro che hanno visto ringrazio delirium italicalcium piuttosto che l'altro canale la tribuna del pallone ieri vi ringrazio per seguirmi anche in altri contenuti uno più divertente delirium italicalcium e cabaret e la ieri poi analizzato quali sono stati i dieci diciamo proprio passaggi trasferimenti più costosi a livello internazionale e poi il botto che c'è stato dei trasferimenti nell'ultimo anno a livello internazionale nella tribuna del pallone invece nel delirium italicalcium il delirium italicalcium il delirium dei miei personaggi il buzzurro nel azzurro canciro il napoletano il bischarino fiorentino il roscio di roma il pomata laziana andatevi a vedere andatevi a vedere così vedete che qua ci si spara qua ci si ragiona ma ci si diverte e poi c'è anche ci si pensa la domenica con saggezza popolare attraverso detti e proverbi quindi come vedete quattro canali avanti alla faccia dei youtuberini che dicono sei un pezzente che chiedi le lemosina non è chiedere le lemosina semplicemente se date i soldi il 4 per 1000 alla chiesa che vi ha sempre preso per il culo per 2000 anni davanti a qualcosa c'è dicono tanto come san francesco era una persona un uomo un santo come gesù cristo umile e guardate il vaticano come messo cioè ci sono il paese la città più ricca al mondo e cosa danno a voi fedeli no quello che chiedono è sempre l'offerta l'offerta no e poi venite a dire a me che sono il pezzente apri gli occhi open your mind apri la tua testa torniamo a conte dunque e conte al milan questa è la domanda allora nonostante pioli abbia a parte anche io fossi in pioli veramente mi sentirei disgustato in questo momento della stagione in una situazione del genere nonostante un contratto che lui abbia fino al prossimo giugno 2025 e ancora una metà stagione da giocare con un miran saldamente al terzo posto che si può giocare fino alla fine l'europa league ormai sembra che perlomeno per quello che arriva dai media per quello che arriva nell'ambiente dai social quello che si legge è l'ultima stagione dovrebbe essere l'ultima stagione di stefano pioli proprio sulla panchina del milan in questo periodo però si fanno sempre più insistenti questi rumors che riguardano antonio conte come possibile sostituto ma è davvero possibile uno scenario di questo tipo può davvero l'ex juve che ci ha denigrato sul gol di montari e poi passato all'inter diventare il nuovo allenatore rosso nero e dobbiamo un po' analizzarla questa situazione perché è vero che si parla molto di lui però noi sappiamo che quest'anno la posizione i pioli è stata messa un po' con le spalle alla parete per via che un mercato estivo di circa 100 e rotti milioni siamo in teoria fuori dalla corsa a scudetto abbiamo salutato nel girone più difficile nel girone di ferro essendoci arrivati anche come quarta del bomboli delle palline proprio delle palle nel girone di ferro siamo arrivati tra l'altro a pari punti col pari san germain siamo usciti per differenza reti nel girone più difficile a differenza dell'inter che aveva il più facile arrivato secondo e quindi vabbè mi viene da ridere su sta roba qua vabbè in ogni caso fuori già anche dalla coppa italia ovviamente l'obiettivo minimo è quello di poter centrare la champions league quindi il terzo posto al momento sembra consolidato e eventualmente vedere come possa andare in europa league perché un eventuale vittoria può rimescolare le carte in tavola come ho detto più volte e non è detto che possa arrivare un cup de teatro come si dice un colpo di teatro in caso che il milan diventasse campione di europa league e poi giocarsi la supercoppa europea e entrare comunque come terzo di diritto anche vincendo come europa league in ogni caso in champions league può darsi che l'altro anno di contratto possa essere ancora fatto da stefano pioli però dall'altra parte io credo che sia molto difficile che antonio conte sto cercando di essere il più razionale possibile davanti una notizia che secondo me mi ricorda tanto i tempi di raggini che però vabbè però potrebbe essere più plausibile visto che pioli comunque quattro anni al milan e si sa che gli allenatori hanno una data di scadenza come quando voi comprate ehm una confezione di latte e vi mettono fe fecia de caducidad qua in spagna no data di scadenza e poi dopo quella data diventa schifez e e sarà arrivata questa data di scadenza al momento io so che lui ha un contratto fino al 30 giugno 2025 quindi la scadenza semmai è quella data poi vedremo in ogni caso il discorso ehm conte e mh red beard ovviamente dovrà valutare anche la questione stipendio anche perché ehm conte le sue richieste sappiamo sono molto alte non solo per lui ma anche quello che lui chiede in sede di mercato è una mh è un modo che non va in linea con questo modo operandi modus operandi di questa proprietà di questa società perché ehm il modo di lavorare mh del milan ehm richiede sostenibilità questo genere di società non sperperare soldi e dunque ehm io penso che il milan semmai dovesse fare un cambio è una mia opinione poi ovviamente bisogna vedere quello che veramente succederà eh sarebbe più orientato su dei tecnici emergenti che hanno voglia comunque di crescere ancora che non sono già arrivati Antonio Conte come Murigno sono giocatori e sono giocatori sono allenatori che hanno già fatto il loro tempo e quindi eh c'è bisogno di chi ancora ha fame e tra questi c'è ovviamente Tiago Motta in pole position sembra ma anche Francesco Farioli del Nizza che tra l'altro piace anche al Napoli che ovviamente dovrà ricominciare un nuovo corso visto il fallimento di quest'anno per errori proprio di Aurelio De Laurentiis dopo che Spalletti ha abbandonato il Napoli e andato a allenare la nazionale italiana però è anche sì vero che ci sono eh dei rumori insistenti su Antonio Conte ne aveva parlato detto da Michele Criscitiello ovviamente lascia il tempo che trova perché quelle trasmissioni di Sport Italia valgono meno del 2 di pic però lo stesso di casi Tele Lombardia ne ha parlato questo Luca Monblano giornalista sportivo che segue la Juve sembra che da vicino conosca eh Conte per vie traverse e dice che già ci sia un accordo triennale con il Milan intesa che ha trovato direttamente con Zlatan Ibraimovic che eh praticamente fa le veci non le feci le veci di Redbird e avrebbe ricevuto la delica per poter individuare il tecnico della prossima eh stagione e quindi sembra che è Antonio Conte ma mh è vero è vero cioè quello che dice questo personaggio è che ha stretto un patto d'acciaio già con Ibra e già stanno pensando Milan del futuro io vi dico una cosa al 31 gennaio di storie ne ho sentite tante però se mai fosse vera se mai fosse vera a me quello che spiace e ripeto è la posizione di Stefano Pioli non è il top allenatore mondiale perché io vi ho detto più volte che se eh si presenta l'occasione di avere un Klopp un Guardiola un Carletto Ancelotti io mi redimo e dico Stefano ti voglio bene grazie però lì sì che c'è l'upgrade lì sì che c'è il salto in alto con quei tre allenatori su tutti il cuore mi direbbe Carlo Ancelotti la mente mi direbbe Guardiola ma la pancia mi direbbe Klopp sì ci sono questi se poi vuoi fare un progetto a medio lungo termine con un allenatore giovane più che Farioli che comunque è italiano ma in una realtà come quella della Liga nel Nizza che non ha niente a che vedere col campionato italiano piuttosto opterei per Tiago Motta che perlomeno il campionato italiano lo conosce e anche molto bene essendo stato anche un calciatore che ha giocato tanto nel nel nostro campionato che nella nazionale conosce molto bene il calcio italiano e sta dimostrando di avere una grande personalità come allenatore quindi se dovessi scegliere per un cambio radicale dove si ricomincia un progetto che per quanto mi sembra una roba assurda perché vuol dire aver buttato nel cesso un anno di progetto che sarebbe quest'anno dove il Milano ha investito 120 milioni e con allenatore Stefano Pioli quindi le incognite ci sono io non ho la sfera di cristallo cerco insieme a voi di ragionare anche sulle cose farvi ragionare cioè vedere i vari tasselli che ci possono essere quindi questa è un po la mia idea ovviamente fammi sapere in basso tu che cosa ne pensi nei commenti noi nel pomeriggio in serata ci vedremo per un nuovo appuntamento anche nella tribuna il pannone però vi posso dire un po un sentimento che io sento non mi piace non mi piace da tempo quello che si sta muovendo attorno al Milan e questa denigrazione costante che c'è nei confronti del Milan non tanto e solo a livello mediatico che sappiamo il Milan deve essere martellato in lungo e largo a differenza del proteggere comunque la Juve Inter la unica azienda Juve Inter che per me sono la stessa cosa e i giornali media li difendono tanto da una parte la Juve tutto Juve Sport che dall'altra la gazzetta interista dello sport l'altro già lo sappiamo questa cosa qua ma è il la cosa che più mi dà fastidio è che ci sono i pecoroni che si reputano milanisti che seguono questi e invece di tirar fuori quell'orgoglio kashavit di difesa del Milan e del milanismo e quindi anche di difesa di Stefano Pioli di difesa della squadra non sempre stare col punto col dito puntato gira questo dito come dicevano i monaci tibetani buddhisti giralo verso di te guardate non guardare fuori cerca dentro di te le risposte a certe cose non che te le devono dare questi quattro venduti giornalai che come ho già detto all'inizio aprendo con il film quinto potere sono dei burattini ben pagati per dire stronzate e muovere le opinioni e la massa verso una direzione invece che un'altra medita medita che fa molto bene meditare ve lo assicuro un bacio alle amiche un forte abbraccio a tutti gli amici sempre forza meno ovunque comunque e noi ci vediamo a un prossimo programma ciao